Che fortuna che si trovi per puro caso a bordo, detective. Spero davvero che riesca a fare luce su questa storia. All right, mi chiamo Ashley Pratt. Io e Lucas siamo sposati da un paio d'anni, anche se in realtà conoscevo suo padre da più tempo, perché ho fatto la Osses su questi transatlantici per un po', da quando hanno iniziato a viaggiare qui negli Stati Uniti. Questa macchia è caffè. Quando mio marito mi ha dato la notizia, sono uscita dal ristorante di Corsa e mi sono scontrata con Ramon, che aveva un caffè in mano. È vero, io e Leonardo non eravamo in buoni rapporti, anche se non è sempre stato così. Quando lavoravamo insieme non era per niente scontroso, ma appena io e Lucas ci siamo messi insieme, ha iniziato a trattarmi piuttosto male. Credo che abbia sempre pensato che sto con suo figlio per soldi, ma le giuro che non è vero. Amo Lucas con tutto il cuore. E naturalmente non sono stata io ad ammazzare Leonardo. Non avevo niente contro di lui, a parte il disprezzo, che mi dimostrava quasi sempre. Grazie. Grazie.